Parlando magari tra marito e moglie E beh, cosa ne facciamo di nostro figlio che c'è l'AIDS? Eeeh, no, 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 mandalo via Non bisogna mandarlo via Perché? Ma perché l'AIDS più la lasci Gli isoli e più si espande l'AIDS Ah, ma io di mio figlio non ne voglio sentire niente Ah, mio figlio, io a mio figlio non lo faccio Stai zitto! E lo risposto è azzato E poi nascita a zero Io a mio figlio non lo mando via Perché tu a tuo figlio ce l'ha mandato via Certo che l'ho mandato via E se mi contagio anche gli altri figli? Eeeh, ma non bisogna fare così Io a mio figlio mangia quello che mangiamo noi Cioè non esiste Perché lo devi mandare via A uno che è il tuo figlio Eeeh, no, io l'ho mandato via Non ne voglio più sentire No, io non l'ho mandato via Solo che è lui che è un po' che si isola E perché? Eeeh, perché mangia solo crackers e sogliore No, io a mio figlio ce l'ho mandato via Ma mangiava di tutto E perché tuo figlio mangia solo crackers e sogliore? Perché ci passano solo quelle di aso testa alla volta Grazie Grazie Grazie